La giornata di oggi ci ricorda che i bambini e gli adolescenti stanno pesantemente soffrendo tutte le limitazioni nella fase più importante della loro formazione degli uomini e delle donne del domani imposte dalle misure di contenimento della pandemia. Io sono molto felice però che in questa regione non abbiamo finalmente istituito la figura del garante dei loro diritti che sta operando seppur da tante difficoltà però per farli garantire. I bambini e gli adolescenti subiscono l'impossibilità in questo momento di fare quello che a noi invece è stato concesso, cioè vivere liberamente le fasi di comunità, della comunità scolastica, dei propri amici, prendere un pallone e andare a giocare, vedersi con le amiche e con gli amici, ma passerà. Noi dobbiamo essere molto bravi a capire le loro esigenze, ad essere pazienti e ad inventare sempre strumenti per farli socializzare abbandendoci oggi delle nuove capacità tecnologiche. È compito della regione, del Consiglio regionale che si può fare in questo momento molto difficile per loro, che vengono spesso involontariamente accusati di essere l'oggetto della possibile propagazione del virus. Io credo che non ci sia nulla di male che un bambino voglia giocare, che un ragazzo voglia divertirsi, lo si deve fare, vanno educati a farlo con tutte le misure di sicurezza possibili. Usciremo da questo brutto periodo e torneremo a sentire la voce dei bambini e dei ragazzi per strada che giocano liberamente come giusto che sia.